Attenzione amici perché siamo ora giunti al momento sacro della statosta. Sto infatti per presentarvi una nuova splendida, straordinaria realizzazione dell'esimio maestro Teomondo Scrofalo. Eccolo qui. Guardate l'audacia di quest'opera che il maestro Scrofalo è riuscito a dipingere al contrario. Infatti quest'opera il maestro la dipinta con i piedi attaccati al solfitto e la testa all'ingiù. Oh, devo anche dirvi che mentre la dipingeva era completamente nudo. Sempre in questa posizione, completamente nudo, il maestro Scrofalo riceveva in questo periodo i suoi clienti. Oh, devo dire appunto che quest'opera risale al periodo figurativo, cioè quando lui faceva certe figure. Ma certe figure? Basta guardarla. Oh, se qualcuno non amasse questa tematica, non ha problemi perché l'opera è rivoltabile come tutte le opere del maestro Scrofalo. Anzi, direi che più che rivoltabile è un'opera veramente rivoltante. Attenzione signori, chi offre qualcosa per quest'opera del maestro Scrofalo, chi offre qualcosa, come dice Mille Cinque, ha giudicato. Signori, termina qui anche questa sera Asta Tosta. Oggetti tosti per tutti i gosti. A tutti quanti Asta la vista, perdon. Asta la tosta.